E dopo un altro campionato di vittorie e dopo esserci lasciati qualche mese fa con il trofeo dei primi classificati al Suzuki Rally Trophy 2017 ecco che ritroviamo i campioni di casa nostra Lorenzo Poppe e Giacomo Poloni presentarsi ai fan e agli sponsor con una nuova squadra ed una nuova macchina In una serata di gala presso il centro pulifunzionale di Vidor lo scorso mese di febbraio è stato finalmente svelato il nome della nuova scuderia e della nuova macchina Le due bestie sono pronte per svelare la bella che c'è sotto quel telo la protagonista insieme a quante parole del campionato italiano Rally 2018 di R2 Sport Peugeot 208 R2 La Super 2000 Racing è un grande salto di qualità per i nostri piloti Lorenzo Coppe e Giacomo Poloni della Pupillo Corse che rispetto alla scorsa stagione vedono quasi da doppiati i cavalli della macchina a loro disposizione per raggiudicarsi l'ambito titolo del trofeo Peugeot R2 2018 nel campionato italiano Rally il quale avrà i seguenti appuntamenti Rally Il Ciocco e Valle del Serchio dal 22 al 24 marzo Rally di Sanremo dal 12 al 14 aprile Targa Florio dal 3 al 5 maggio Rally Elba dal 24 al 26 maggio Rally San Marino dal 30 giugno al 1 luglio Rally Romba Capitale dal 20 al 22 luglio Rally Adriatico dal 22 al 23 settembre ed infine i Rally Due Valli dall'11 al 13 ottobre Tutti appuntamenti che noi di Valdo TV puntualmente seguiremo E allora ancora una volta in bocca al lupo ragazzi e fateci sognare! Grazie! Grazie!